29. Giordano Bruno Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno, 1548-1600, filosofo, scrittore e monaco cristiano appartenente all'ordine domenicano, bruciato vivo per eresia, Girolamo Savonarola fu prima impiccato e poi bruciato, dice Nel nostro mondo l'ombra è traccia della luce e la verità ha in sé l'ombra. L'ombra è soltanto la mancanza temporanea della luce che alla fine vince perché lo esige la legge d'evoluzione che è divina. Grazie a tutti.